qui ecco qua lo staff di licenenziale dei maremmaiali buonasera ecco qua allora siamo in attesa del calcolo della giornata del fantap buzz forse forse riusciamo a riconquistare i tre punti siamo stati compatti uniti circoncisi precisi e circoncisi abbiamo non ci siamo la squadra nella bolla non ci siamo minimamente scomposti dopo la sconfitta siamo stati presenti al loro allenamenti troppe chiacchiere ci sono state in giro tra le altre società questa settimana troppe offese gratuite troppe prese in giro ma noi non ci scomponiamo noi anzi ci componiamo con i componibili e questa dimostrazione di prova di forza se il calcolo sarà positivo che vinciamo tre punti saliamo a quanto a 9 a 9 a 9 punti che siamo lì vicino alla testa della classifica con grazie in un pareggio ma è sempre meritato e muti tutti eh capito ok ciao alla prossima